Ieri il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto legge che introduce misure urgenti relativi all'emergenza da Covid-19. Per la nostra regione, se l'andamento dei contagi non cambierà e non peggiorerà, l'Abruzzo entrerà in zona bianca dal prossimo 7 giugno con Veneto e Liguria. Dal primo giugno invece tocca Friuli, Venezia Giulia, Molise e Sardegna. Con il colore bianco le uniche precauzioni che valgono sono naturalmente le regole base, indossare le mascherine, tenere il distanziamento e l'igienizzazione. Inoltre, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, scatterà il coprifuoco a partire dalle ore 23, dal 7 giugno alle 24 e fine l'abolizione totale della misura a partire dal 21 giugno. Niente più coprifuoco invece per le regioni che passeranno in zona bianca e lo si augura anche per l'Abruzzo. Il Premier avrebbe precisato che il programma sarà attuato sempre se i dati sul Covid permetteranno l'ammorbidimento graduale della restrizione. Cambiano i parametri delle zone rosse, arancioni e gialle. La guida non sarà più l'RT, ma l'incidenza è un altro fattore. Il tasso di ospedalizzazione sia in terapia intensiva che in area medica. Arriva una radicale semplificazione, spiegano fonti di governo, dei 21 criteri precedenti che scendono a 12. E veniamo alle riaperture. Dal 22 maggio tutti gli esercizi commerciali presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi. Dallo stesso giorno sarà possibile riaprire gli impianti di risalita in montagna nel rispetto delle linee guida di settore. Anticipata il 24 maggio rispetto al 1 giugno la riapertura delle palestre, dal 1 giugno sarà possibile inoltre consumare cibi e bevande anche all'interno dei locali, e dunque il caffè al bancone, pure oltre le 18 fino all'orario di chiusura dettato dal coprifuoco. Dal 15 giugno saranno possibili anche a chiuso le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, ma solo in presenza della certificazione verde restano sospese invece le attività in sale da balo, discoteche simili all'aperto o al chiuso. Parchi tematici e divertimento potranno riaprire dal 15 giugno. Dal 1 luglio potranno riaprire le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere nel rispetto delle linee guida e dei protocolli. Dal 1 giugno all'aperto e dal 1 luglio a chiuso è consentita la presenza di pubblico nei limiti già previsti, 25% della capienza massima con il limite di 1000 persone all'aperto e 500 al chiuso, per tutte le competizioni o eventi sportivi, non solo a quelli di interesse nazionale. Dal 1 luglio sarà nuovamente possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza. Lo stesso giorno riprendono tutte le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi e dal 1 luglio sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino potranno riaprire al pubblico. Decisivo per l'abruzzo l'addamento dei contagi dei prossimi 14 giorni e per accedere alla zona bianca dove comunque restano in vigore l'obbligo di mascherina, il distanziamento e l'igienizzazione mentre decade, come detto, il coprifuoco.